Per la prima volta, Sabotage Event, Organizations, Scrivono i pali, sabato 16 gennaio 2010, Puglio al Cielo, questo è il nostro mondo, Puglio al Cielo, il segno di libertà, questa volta è come dedicare lì in the club, Rocco Domino Senenta, Galluno, la voce ufficiale, voi, noi, il grande viaggio musicale! Questa notte tutto è concesso, energia, movimento, Sabotage, l'evento dell'anno, School Body! La console viciniale protege quando il sax più forte della Sicilia, Gio! Le percussioni attivo, Nino Provenzano e Totò il Ferro, ecco di cui andai! Il primo è d'Italia, da non dimenticare le ragazze di Mediterranea 2009! DJ numero uno al mondo! Mettetevi qua vicino, che ve lo dici! Guarda qua! Guarda che bella, guarda! Guarda che bella, guarda! Guarda che bella, guarda che bella, guarda! Guarda pe, guarda! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione